Siamo qui nell'Arena D3 della Fiera di Rimini che inaugurerà il 20 di agosto con uno spettacolo realizzato dalla China National Opera House, una compagnia che arriva direttamente da Pechino per presentare Madame Butterfly in forma di concerto, 180 elementi che saranno qui con i loro costumi tradizionali per presentarci una Madame Butterfly realizzata dalla nuova scuola di canto orientale. E poi ancora appuntamenti, ogni sera ho un diverso evento sempre qui in Arena D3, la sera del 21 ci sarà Neri Marco Re con una serata dedicata a Fabrizio De Andrè e poi una serata di teatro con Massimo Popolizio, padre e figlio e poi ancora concerti e spettacoli qui in Arena ma anche al Teatro Ermete Novelli di Rimini con tre appuntamenti. Vi aspettiamo!